Un nuovo evento a Fossano, un nuovo evento per promuovere un'eccellenza nel nostro territorio, la razza bovina piemontese. Siamo con il senatore Giorgio Maria Verceschi. Io credo che la città di Fossano, il sindaco, il vice sindaco, la giunta hanno fatto un lavoro eccezionale, hanno messo insieme un evento che mancava nel tempo, erano due anni che si doveva iniziare ma a causa pandemia non si è potuto. Si è realizzato un ottimo programma, la valorizzazione della razza piemontese, partendo dall'allevamento, dalla cultura, dalla tradizione. Teniamo presente che qui sul nostro territorio abbiamo quasi un centinaio di allevamenti per oltre 12.000 capi di razza piemontese solo sul comune di Fossano e questo va a premiare quella che è stata nel tempo il mantenimento di una razza importante e anche la promozione della carne perché oggi purtroppo gli allevatori faticano tantissimo perché i costi di produzione superano di molto i ricavi. Perciò un'iniziativa che segnerà il passo anche attraverso una parte gastronomica coordinata dalle Proloquio. Credo che questo sia un evento che possa partire da oggi per un buon inizio e poi vedremo negli anni a venire se si potrà potenziare. Grazie.